YOLANDA SWITCH Con perle colorate Non commessibile non mangiare ecc Rivista Skiffy Doll 9,99€ Quindi lo Skiffy Doll Fruit Squish gigantesco Più la rivista a 9,99€ Allora la scatola ve lo giuro ragazzi E' gigante E di Skiffy Doll Fruit Animal Sono questi Un'idea veramente geniale devo dire Allora ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sono 6 da collezionare Allora questo qui è Arancia più gorilla Quindi arangorilla Pazza di gioia Frogola più orso Frago l'orso Profumo di allegria Uma più pesce Ogni chicco un capriccio Che figo Ananas più coniglio Ananiglio Strizza di buon umore Pera più gatta per gatta Cotta d'amore Cocco più ragno Cocco ragno Super coccolone Ragazzi Adesso rimarrete tipo scandalizzati Appena li apro Comunque vi volevo dire Un'altra cosa importantissima Che dopo questo video Che è uscito alle ore 18 Tra un'ora Alle 19 Uscirà un altro video Quindi oggi Tre video Uscirà un altro video Super importantissimo Di un annuncio super importante Quindi ragazzi Mi raccomando Restate collegati Per il super video Importantissimo Mettete la sveglia Mi raccomando Avete visto anche il video di ieri Dello slime con Ita? Andatelo a vedere Ve lo lascio nella lì Delle info Del nostro evento Siete pronti? 1 2 3 Ragazzi sono Mega Ma quando dico mega È mega Guardate che bella Che faccina puttata Allora Qui abbiamo il catalogo Che bello Come sempre Game Mission Collection Prezzo unitario Di vendita La rivista Del gadget allegato 9,99 Mega giganti Strizzali Ci sono tutte le novità Qua ci sono Tutti i nostri Squishy Fantastici E ci sono tutte le curiosità All'interno Della rivista Mi raccomando Ragazzi Fatevi dare sempre la rivista In allegato Allo squishy Perché Non capisco perché Molti giornalai Non la danno La rivista Cioè non ce l'hanno dentro Ma voi chiedetela comunque Questa è la rivista Con tutti i giochini L'arte di arrangiarsi E qui I nostri Squishy Ma io veramente Raga Sono curiosissima Di andarle ad aprire Allora partiamo Per gradi Vediamo All'interno dovrebbero esserci Le famosissime palline Super profumate Ecco qui Allora qui Abbiamo Apro la mia rivista Che così leggo il nome Qui abbiamo Il fragol orso Fragola più orso Mamma mia Ah ma si apre proprio così No Vabbè Oddio ma profuma Allora Ha un'apertura stupenda Perché ha Questa apertura qui Salva Tipo salva Preschezza No Raga È mega No Ragazzi ma io adoro Non posso andarle a distruggere Perché io avevo pensato No vabbè Io uno lo apro Ma non posso andarlo a distruggere È troppo buccioso Guardate qua che meraviglia Allora a parte che Ha uno strato super resistente E ha una Oh guardate la codina Guardate che buccia Allora ha le gambine Le zampine bellissime La faccetta molto Cute Kawaii E ha la forma della fragola Ovviamente Ma Rotonda come un orso Con la codina Ha le zampine E le orecchie E si squiscia In questo modo E dentro ci sono Le palline Raga questo rumore È Stra Iper mega ASMR Adoro Comunque si raga Profuma E questo qua Profuma di fragola Almeno io Anche se sono Influenzata Un pochino Lo sento Il profumo Oh mamma mia Adoro Allora li mettiamo qua Anche se poi Sono belli questi qua Da mettere esposti Sono molto carini Vediamo questo Che invece È Ananiglio Ananas Più coniglio Vediamo com'è Apriamo La nostra confezione Oh Oh mio dio Oh mio dio Che profumo Ragazzi Ma c'è un profumo Di ananas Proviene da qui Che profumo Incredibile Oh mamma mia Buongiorno Sa un sacco Di ananas Ma Mi senti un botto Allora Che carino Guardate le orecchie A coniglio Penzolanti Oh mio dio Guardate la faccetta Hanno tutta la stessa Faccetta kawaii Le gambine Anzi I piedini Con Il cosino Dell'ananas Che profumo Ve lo giuro Io appena l'ho aperto Siete il profumo Di ananas Sarà che l'ananas Si sente veramente Un sacco Come profumo Ma è bellissimo Con all'interno ci sono All'interno ci sono Queste bellissime perle Tutte colorate Di giallo Sentite Adoro E si sente Con questo Si sente un botto L'odore di Di ananas Che bello Poi è super Puff Puff Adoro E' super Pacioccone Poi Un altro Che mi viene A tiro E' questo Qui Ok Questo qui Invece E' Arangorilla Arancia Più gorilla Oddio 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 Si sente un sacco Ma come hanno fatto Si sente un sacco No vabbè Si sente un sacco Il profumo di Arancia Un botto Allora C'ha la testona Gigantesca Con Ve lo giuro Che è stupendo Con la trama Della Dell'arancia Vedete che bella Con la codina Tipo di una scimmia Questa Devo ammettere No però Mi piacciono tutte Ma la fragola E questa Sono top Comunque Devo dire che Questi due Sono i miei Stapreferiti La faccetta Della scimmietta Del gorilla E' Troppo pucciosa Poi Venga ve lo giuro Si sente un botto Il profumo D'arancia E questa volta Veramente Non so come Abbiano fatto Però si sente Veramente tantissimo Mamma mia Che faccia Pucciosa Mio dio Poi Ci sono le perline All'interno Che sono Arancioni Adorabile E questa però Purtroppo non si mantiene La fragola Si mantiene in piedi Allora Vediamo questo Mamma mia Così gigantesco Questo è il Coccoragno Allora Sa Sa un po' di cocco Si Vediamo un po' Il coccoragno Perché guardate C'ha La forma Della noce di cocco Con la trama Come hanno fatto Non lo so È meraviglioso E poi ha Praticamente La forma Ma dentro Sono bianche Giusto La noce di cocco Adoro Ne mancano altre due Praticamente Si un po' No ma si sente Davanti Raga Qua si sente L'odore Che ha le zampette Che ha le zampette Del ragnetto Vedete quanto sono carine Ma la testa Di una noce di cocco Anche sopra qui C'ha la trama Della noce di cocco Che bello E dentro invece Ha le palline Praticamente Bianche Anzi Trasparenti Trasparenti Che bello Questo anche si mantiene In piedi Allora Voglio prendere Questo Che è invece Upesce Uva più pesce Io lo sapete Che amo Il profumo Dell'uva Quindi sentiamo Sentiamo un po' Oh mio dio Ma come hanno fatto Io non lo so E poi stanno senti Pure dietro Questa volta Si sono veramente superati Sono molto molto Belli e creativi Che carino Oh mio dio Che buccioso Adoro Allora Ha la forma dell'uva Quanto è grande Gigantesco Quanto la mia mano Ha il profumo dell'uva La codina Del pesciolino E così E la faccioletta Pucciosa E si strizza Comunque si sente Un botto L'odore d'uva Si sente Sentiamo Si si sente Più che altro Davanti Oh mio dio L'ultimo Che ci è rimasto Invece È la pera Per gatta Pera più gatta Oh questa sicuramente Piace a Daniele Vediamo se Perfuma di pera Un po' si Ma ragazzi Quelli più forti Secondo il mio parere Sono Arancia Che questa Ha anche Allora L'arancia si sente Un botto E l'ananas Un botto Questi sono i miei preferiti Allora I miei preferiti Sono La fragola E l'arancia Sono i miei preferiti Oh Ok Anche la pera Ha le micro zampettine Che carine La micro coda No vabbè Schifido Ti sei superata È veramente Fantastico Qui Il cosino Della pera Adesso non mi viene in mente Il nome Iolanda Ce la puoi fare Non mi viene in mente Le orecchiette Del gattino È stramorbido E dentro ci sono Le sfere Acquose Invece di colore verde Chiaro Adoro Quali mi piacciono di più Ovviamente tutti Ma quali mi piacciono di più I miei preferiti sono L'arancia La fragola E la pera Come forma Però quelli più forti Di profumo Sono Almeno quelli che ho preso io L'arancia E l'ananas Allora Comunque questi Erano I fruit Schifido Fruit animals XXL Secondo me Ci sta Sono veramente top Costano 9,99 Con la rivista In edicola Non possono non passare Osservati Perché lo scatola È gigantesco Ragazzi Davvero E Anche loro sono giganteschi E La fragola Ciao Sono bellissima Fragolosa Adoro Cioè Come si fa Troppo troppo belli Genialata Veramente Top Va bene Fatemi sapere se vi sono piaciuti Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E che questi Veramente Questi Schifido Fruit animals Squishy Fantastici Vi siano piaciuti E niente Grazie mille Io vi mando un bacione Un abbraccio fortissimo E noi come sempre ci vediamo Domani alle 14 e 30 E mi raccomando Anche più tardi Alle ore 19 Con una sorpresa Incredibile Bye bye